Come stai, Marina? Incasinatissima. Oh, senti, allora ti ho portato un po' l'aurino di Kashmi per te e uno per il presidente. Blu, come piace a lui. Se mi fareste la cortesia di consegnargli un ufficio, mi acquisto il mio coloroso bigliettino. Serve, perfetto. Quando è che lo posso incontrare? Nell'aldilà. Per incontrare l'abasciatore, allora stavo pensando a un piccolo stratagemma. Siccome conosco uno all'ingresso, io potrei entrare nel palazzo. Nascondimi dietro la tenda. Quando lui passa, paf, mi presento. Come ti sembra come schema? La tenda qua, ma non si è visto nessuno. Ah, non è più venuto. È rimasto in sarnè. Scusi, il bagno.